Valentina, tu sei la figlia di Federico, che è una delle persone che attualmente è ancora disperse. Dov'eri stamattina? Al lavoro. A mezzogiorno staccato. Mi è venuta a prendere mio marito, però non mi ha detto niente, per non farmi spaventare. Lavori lontano da qui? No, a Marina di San Angelo. E non hai sentito nulla tu? Niente, niente, niente. Perché tutti hanno sentito ad una distanza addirittura di 20 chilometri? Io non ho sentito niente, nessuno mi ha detto niente. Nessuno. Poi sei arrivata qui? In macchina, c'è stata pure mia mamma, con mio marito, e me l'ha detto. Non trociate le dita? Speriamo. La speranza è che possono essere in un bunker sotto la fabbrica? Sì, con la speranza è che sono tutte e tre vivi, che ci mancano mio padre, mio zio e mio cugino. L'altro cugino invece non è riuscito a salversi? No. E il fratellino più piccolo sta in ospedale? No. Grazie.